Con HP Scan è possibile eseguire la scansione di documenti e foto con la stampante HP installata su Windows. HP Scan viene installato con i driver supportati dalla maggior parte delle stampanti HP. Sulla stampante in uso, sollevare il coperchio dello scanner. Posizionare il documento o la foto sul vetro dello scanner con il lato da scannerizzare rivolto verso il basso. Seguire eventuali guide o segni presenti sul vetro dello scanner per un corretto posizionamento. Se viene supportato dalla stampante in uso, è possibile caricare un documento multipagina nell'alimentatore automatico di documenti. Chiudere il coperchio dello scanner. Sul computer, fare clic sul pulsante Windows, quindi digitare il modello della stampante HP in uso. Selezionare la stampante in uso dall'elenco dei risultati per aprire HP Printer Assistant. Da HP Printer Assistant, fare clic sulla scheda Stampa e Scansione o Stampa, scansione e fax, a seconda della stampante in uso. Fare clic su Scansione, quindi su Scansione di un documento o di una foto. Selezionare con il menu di scelta rapida le modalità di scansione. Modificare, se si vuole, le impostazioni nei menu a discesa presenti a destra della finestra. Fare clic sulla casella accanto a Mostra anteprima di scansione o Mostra visualizzatore dopo la scansione. Se lo si desidera, fare clic su Impostazioni avanzate o altro per modificare eventuali altre impostazioni finali. Fare clic su Scansione. Viene visualizzata un'anteprima della scansione. Se si vuole, fare doppio clic sull'immagine della miniatura dell'elemento scansionato per apportare ulteriori modifiche. Fare clic su Salva. Se si vuole, è possibile selezionare la cartella in cui si desidera salvare la scansione e modificare il nome del file. Fare clic su Salva per salvare l'immagine acquisita.